Quali sono i motivi di questa protesta, ennesima protesta? Beh, naturalmente in primis il dare luogo a un servizio oramai è diventato quasi paradossale perché l'Aspi ci manda dei pazienti senza che ci paghi alla fine. È un servizio ottimo che serve al territorio, fatto da personale ben qualificato. Non si capisce perché, di nuovo, bisogna creare una situazione di servizio per la città. Quindi noi chiediamo innanzitutto una chiarezza per quanto riguarda l'RSA. In primis, naturalmente, parliamo dei pagamenti perché anche noi abbiamo delle famiglie. Ci sono delle madri di famiglia, dei padri come me di famiglia e quante altri. Non si può andare avanti in una situazione in cui, veramente, in un modo paradossale, l'Asp manda dei pazienti senza mai pagare. Da quanti mesi non percepite lo stipendio? Noi non percepiamo lo stipendio da quasi 14 mensilità. Abbiamo abbondantemente superato un anno. Si è visto proprio il grado di disagio che stiamo vivendo. E grazie alla nostra amministrazione, che devo dire che dobbiamo essere ne atto, anche il sindaco ha fatto di tutto per cercare intanto di rendere legittime tutte le loro avversità. Ma adesso che l'hanno risolto, non vedo perché questo direttore generale si rifiuta ancora oggi di pagare con tutto un giudice che gli dice di pagare e ti risponde non lo so. L'RSA, da parte dell'amministrazione, ha visto quali erano le problematiche che erano sorte in passato. Fra altre cose sono state tutte superate in modo legittimo e trasparente. Quindi per noi la struttura è in grado di operare liberamente e di fornire soprattutto un servizio per il territorio. Ora come tutte le contraddizioni dell'ASP ci sono delle resistenze. Se prima ci potevano essere dei dubbi che l'amministrazione comunque è riuscita a superare con documentazioni e con delle verifiche, ora da parte dell'ASP si deve concludere e quindi consentire di poter pagare questi lavoratori che ritorno a dire offrono un servizio alla cittadinanza, offrono un servizio alla città di Gela. Non ho capito se questa resistenza è dovuta a un altro tentativo di togliere un altro servizio alla città di Gela, cosa che l'ASP ultimamente sta facendo di frequente.